Avevo due possibilità, la prima è quella di investire in UEFA Football e non dire niente a nessuno, quindi andare avanti con il mio investimento e basta. Ci avrei guadagnato anche perché dura dai 6-7 mesi e quindi sarei andato sicuramente in profitto. Oppure avrei potuto fare un video dove dicevo che avevo investito in UEFA e avrei potuto lasciare il mio link qui sotto in descrizione per far iscrivere le persone. Ci sarebbero state sicuramente tante persone ad offendermi, a dire che propongo piattaforme scam e ci sarebbero state tantissime altre persone che alla fine si sarebbero iscritte con il mio link e mi avrebbero fatto guadagnare. Io non ho fatto nella prima e nella seconda cosa. Non ci ho investito io personalmente senza fare rete perché era già passato troppo tempo quando ho pensato di investirci, quindi ho detto lascio stare perché per me sta per finire. La seconda opzione è quindi quella di fare un video per poi fare rete, non ci ho pensato nemmeno, anche perché dalle esperienze passate abbiamo visto un po' la fine che fanno queste piattaforme. Non mi andava di ripetere comunque lo stesso errore. L'illusione delle persone arriva veramente oltre i limiti. Ho fatto comunque una ricerca online e questa piattaforma UEFA Football è la piattaforma di cui si sta parlando di più ultimamente. Perché dà quello che dice e non delude mai le aspettative degli utenti, degli investitori. Per chi non sa come funziona UEFA Football ve lo spiego veramente in breve. Hai la possibilità di depositare su questa piattaforma, su questa loro app che non è presente nel suo app store e nel suo play store, ma la puoi scaricare tramite il loro sito, quindi scaricando il file. E una volta che hai i tuoi soldini su questa app, devi scommettere su delle squadre, su delle partite di calcio, il risultato che ti viene detto dall'azienda poi su Telegram. Ad esempio l'azienda ti dice giocati il 2 a 1 del Napoli, nel momento in cui tu vai a giocare questo 2 a 1, il 2 a 1 non deve verificarsi. E quindi se non si verifica il 2 a 1, tu prendi la percentuale che ti spetta di guadagno, che è intorno al 2,5% o 3%, non ricordo bene. Se invece si verifica il risultato che tu hai giocato, non perdi, ma semplicemente l'azienda ti rimborsa quello che tu hai giocato, 100, 200, 1.000, 2.000. E quindi questa cosa agli occhi delle persone è una cosa bellissima e diventa ancora più bella, sapete quando? Quando una piattaforma del genere riesce a durare per molto, molto, molto tempo. Perché acquisisce la fiducia delle persone che ci hanno investito, magari 100, e hanno prelevato 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000. Perché sono queste stesse persone che poi vanno a fare danni maggiori. Perché loro che sono andati ad investire 100 e hanno preso 4.000, vanno a dire alle altre persone quello che loro hanno fatto. Vanno a dire agli altri che questa è una piattaforma affidabile, che ha fatto sempre prelevare, che ha sempre rimborsato e che dura effettivamente da 6-7 mesi. La furbata di questa piattaforma è questa, è che non esiste online. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è un sito web che può essere bannato, ma è un'applicazione che viene scaricata privatamente da ogni utente. Quindi io posso creare un'applicazione, te la mando tramite email e tu la scarichi e la metti sul cellulare. Nessuno lo sa, nessuno può metterci le mani. Una volta che l'hai scaricata ce l'hai tu sul tuo telefono, ok? Quindi non è presente sull'app store, ma è una pick-up per quanto riguarda l'android che puoi scaricare dal loro sito e via. Quindi gira in un modo totalmente anonimo, tra virgolette. E questa è una grande furbata, ok? In secondo luogo, prima di andare a vedere una cosa importante, loro non hanno la possibilità di andare a fare effettivamente quelle giocate. Non sono dei bookmaker, ok? Non sono dei siti scommesse che possono effettivamente far andare in porto quella determinata giocata. Non lo possono fare. Non sono dei bookmaker, non sono Eurobet, Goldbet o qualsiasi altra piattaforma, sito che permette di fare questi tipi di scommesse. Quindi è palese che quello che si va a fare in quell'app non vale niente. Ma andiamo a soffermarci su una cosa veramente molto molto importante. Cioè le recensioni che le persone hanno fatto su questa piattaforma, per questa piattaforma. Mi sono fatto un giro su Trustpilot e ho visto 96%, 96% di recensioni positive. Perché? Perché effettivamente sono 6-7 mesi che le persone investono, guadagnano e prelevano. E' normale che le persone vanno a dare fiducia a questa piattaforma. E poi cosa accade? Vanno a fare una recensione positiva, 4,9, ok? Perché effettivamente sono contenti del guadagno che stanno ottenendo e lo fanno per di più per cercare persone da tirare dentro all'applicazione. Quindi sono 475 recensioni, la maggior parte, positive. E se andiamo a leggere sotto c'è un qualcosa di molto scandaloso. Dice Ciro, è l'unica piattaforma affidabile. Ad oggi con un investimento di 50 euro ho già incassato 2.000 euro. Se volete info, poi lasciate pure il suo numero perché effettivamente... Per fare rete, no? Perché poi c'è anche la questione rete, che è quello che mantiene tutto in piedi. Cioè, mettiamocelo in testa. Vediamo un'altra recensione. Investimento minimo e ritorno con interessi rapido. Ormai devo essere rientrato nel mio investimento dopo aver iniziato a incassare, posso recensire anche io UEFA. E dirvi che sono assolutamente affidabili. Cioè, è un qualcosa di veramente assurdo, vaiù. Cioè, è incredibile proprio. Cioè, è come se non si sapesse che inizialmente si può guadagnare, si guadagna realmente. Ci sono persone che fanno soldi, ok? Infatti, perché io ho pensato di investirci senza dire niente a nessuno e senza fare rete? Perché so che queste piattaforme possono durare un tot di tempo. E ti permettono effettivamente di guadagnare. Però, dire io ho prelevato, investito 50, ho prelevato 2000, sono affidabili. Cioè, è una grande cazzata. Va a dare un giudizio troppo positivo ad una piattaforma di merda. E le persone che vanno a leggere poi le recensioni, perché poi quelli che vogliono invitare le persone in questo investimento, dicono, vai a leggere le recensioni. Tutte le persone sono contente, ok? E lì c'è l'errore più grande. Tutto perfetto, ero scettico, ma in un mese ho raddoppiato il capitale e ho iniziato i prelivi. Il massimo, funziona come dice, il tutto è davvero semplicissimo. Mi pendo solo di non essere entrato prima in questo progetto. E poi lasciano sempre il loro, una loro email, un numero di telefono, telegram, per farsi contattare, per farli entrare. UEFA semplicemente è il top. UEFA è una garanzia. Come faccia ad entrare, ovviamente, lui? Investire con UEFA? Allora, io posso dire che uso UEFA da quasi 5 mesi, 5 anni, forse da Maron, con un investimento iniziale di 1K. Oggi mi ritrovo con più di 13K. Devo dire, molto ma molto eccellente. L'app UEFA è veramente perfetta. L'assistenza online è disponibile 24 su 24. Sì, pure Golden Fliss. Erano disponibili sempre, ogni giorno. Lunga vita a UEFA. Siamo un gruppo di amici che gioca da mesi. Abbiamo ritirato senza alcun problema. Dopo circa mesi, vabbè. Sono le solite cose. Questa è l'unica recensione che mi è piaciuta. L'unica recensione che ha parlato come si deve. Attivo da tanti mesi, dal 2022, ha sempre funzionato. Dei ritiri immediati. Rimborsato sempre ed immediatamente eventuali scommesse perse. Obbligatorio seguire il loro direttore. Attenzione, usate la testa. Non potrà andare per sempre. Anche se ce lo auguriamo. Ricordatevi, i numeri sono numeri finché stanno in un'app. Fino a quando non hai realmente ritirato il capitale, ovviamente anche i guadagni, sei sempre solo in perdita. Non fatevi prendere restando nelle bolle dei numeri. In breve periodo recuperate. Accontentatevi, ma almeno salvate il capitale. Questa è una persona responsabile. sia per se stesse, sia per gli altri. Perché va a scrivere una recensione. Per quella che è, perché è così fondamentalmente, va bene che ci sta guadagnando, ma è consapevole che non durerà per sempre. Ma è la realtà. Ok? Ma tutte queste recensioni positive, ragazzi, vanno a fare un danno non indifferente. Grande UEFA. Qui perde solo chi non comincia. Aveva football numero uno nel mondo degli age found calcistici. Ebbè, un'opportunità unica. Vuoi fare il top degli investimenti. Ripeto, ragazzi, non c'è niente di male nell'andare ad investire in queste piattaforme, ma bisogna essere consapevoli dei rischi. Ok? Tutte queste persone che avete visto, che hanno lasciato queste recensioni, non sono in grado di capire nemmeno quello che stanno facendo. Hanno visto un po' di guadagno, e quindi si illudono che questa sia l'opportunità della vita che li fa diventare ricchi. Ok? Rovinando poi anche gli altri. Perché? Perché io se vado a guadagnare una piattaforma, e vado a pubblicizzarle in un modo così positivo, invoglio altre persone ad investire in essa. Soprattutto dopo che sono passati 6-7 mesi dall'uscita di questo UEFA, e le persone vanno ad investire proprio adesso, a parer mio, è molto molto rischioso. Come già vi ho detto, io avevo la possibilità di fare il mio investimento personale. Non l'ho fatto all'inizio perché credevo che non durava nemmeno un mese, e non lo faccio adesso perché penso che sia troppo tardi. Ok? Tantissime persone mi hanno proposto di fare questo investimento. Provaci. Vai. Fallo. Lo stanno facendo tutti. Ma la cosa che mi frena è proprio il fatto di fare rete. Ok? Non mi va di continuare, come già vi ho detto altre volte, a portare avanti queste piattaforme che prima o poi finiscono. Ok? Una cosa è magari investirci, tu con i tuoi amici, con le persone che conosci, magari con le persone che io ho nei miei gruppi, che posso parlarci a tu per tu. Allora lì è diverso, ma fare un video per andare a guadagnare su queste piattaforme, non ci sarebbe niente di male. Se ci fossero le persone responsabili, che capiscono il messaggio che io voglio mandare, non ci sarebbe niente di male. Però tante persone non capiscono e credono, credono che questo sia oro. Tutto quello che si vede, no? In UEFA, pensano che sia oro. E quindi, seppure io vado a dire, ragazzi, è rischioso, mi raccomando, questo prima o poi, chiude, investiamoci, divertiamoci, le persone non lo capiscono. Poi, se proprio vogliamo dirla tutta, alla fine, comunque, deve chiudere l'applicazione. E perché va a chiudere? Perché ci sarà un'affluenza di persone che andranno ad iscriversi, tutte insieme, e quello sarà il momento in cui l'applicazione chiuderà. E quindi, gli ultimi entrati perderanno tutti i soldi. Quindi, anche questo è il motivo che, diciamo, mi frena dal continuare ad investire in queste piattaforme e andare poi a proporlo agli altri. Ok? Abbiamo fatto le nostre esperienze, o meglio, ho fatto io le mie esperienze con queste piattaforme e ho deciso di fermarmi. Detto questo, ragazzi, ci tengo sempre a precisare che questi sono i miei pensieri, le mie opinioni, ok? Che non equivalgono a verità. Sono i miei punti di vista, che magari possono essere diversi dai vostri. Appunto per questo, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto, nei commenti, e spero con tutto il cuore che questo video vi sia stato utile. Noi ci becchiamo, alla prossima. Ciao!